Il rischio di una seconda ondata è considerato da tutte le organizzazioni scientifiche nel mondo non una eventualità, ma una probabile certezza. Non si sa quando, non si sa come, non si sa quanto durerà, arriverà. Ecco perché continua a essere raccomandata da tutti la massima prudenza. Prudenza è quella che chiede il sindaco Carlo Salvemini ai Leccesi, prudenza che sarebbe venuta meno proprio in queste ore. A testimoniarlo sono alcune foto che stanno facendo il giro dei social. Pur nella doverosa comprensione di una richiesta di ritorno a una nuova normalità, A oggi non è più immaginabile che la vita di ciascuno di noi possa essere controllata per tutto il giorno da chi è preposto a far osservare le disposizioni. Quindi aumenta esponenzialmente una consapevolezza che ci interroga e ci impone di porre a noi stessi il quesito lo posso o non lo posso fare? È prudente o non è prudente? Se vogliamo tornare indietro, facciamo il nostro dovere, solo così potremo continuare ad andare avanti.